Ciao, mi chiamo Allegra De Pinto e sono un'attrice. Ho 24 anni e vivo a Roma. In realtà sono nata in Calabria, però quando avevo 5 anni mi sono trasferita qui a Roma, dato che mio papà è calabrese mentre mia mamma è napoletana. Motivo per il quale, ovviamente, oltre al romano, so parlare molto bene anche il napoletano, proprio perché mia mamma mi ha sempre parlato in dialetto napoletano. La Repressione per la Legitazione nasce molto presto. Mi ricordo che da piccolina mi divertivo a chiudermi in camera e a interpretare diversi ruoli, a inventare proprio storie e personaggi. Tuttora il mio spirito di osservazione comunque mi consente di anche capire quali sono le motivazioni di determinati comportamenti di alcune persone. Mi piace molto analizzare e osservare, anche se comunque mi reputo anche molto espansiva, proprio perché anche i vari cambi che ho avuto di trasferimenti mi hanno sempre permesso e anche ho avuto l'opportunità di conoscere moltissime persone. Ovviamente questa versione per la recitazione è dovuta anche al fatto che credo che il cinema abbia un forte potere sociale, credo che tramite il cinema si possono veicolare dei messaggi molto forti e positivi. Il motivo per cui da piccolina verso l'età delle scuole medie ho frequentato sia corsi di teatro e poi in seguito qui a Roma ho frequentato un'accademia di recitazione cinematografica. Tuttora frequento delle masterclass e corsi di recitazione. Oltre alla recitazione parlo molto bene le lingue proprio perché le studio, parlo molto bene l'inglese e lo spagnolo, oltre a studiarle le sono molto bene anche per vissuto e sono una mia grande passione. Mi sono dedicata alla danza classica, l'ho studiata per anni e la danza moderna e anche per variare un po' ho fatto tennis per due anni. Questi sono i miei profili.